Preparatevi tutti perché a partire dal 3 novembre 2024, cioè domani che vi ricordo sarà domenica, partirà, riprenderà il famoso quiz show televisivo che è l'eredità. Torna ovviamente su Rai 1, la famosa emittente a Mirai per eccellenza, fino al giugno 2025, credo. Controllo meglio perché, sì, fino al giugno 2025 è quando ci sarà la classica, normale, pausa estiva, le cosiddette vacanze estive. Sarà sempre al timone, quindi nella conduzione, il buon Marco Riorni, in onda tutti i giorni su Rai 1, a partire dalle 6.45 circa del tardo pomeriggio, lo stesso conduttore non vede l'ora di andare a, diciamo così, di mettersi in condizione di condurre il programma in questione, che si mette in condizione sempre di più di essere apprezzato e amato. Ai divertenti giochi di eredità ci saranno per l'appunto i giochi del TRIELLO, la ghigliottina, i paroloni, però se ne aggiungeranno anche altri. Comincia tu, il TRIELLO che ve la richiedo con domande e pigliatutto. Insomma, una lezione nuova, innovativa, piacevole, dove Marco Riorni sarà il conduttore. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate, una buona giornata.